Sono contenta di essere riuscita a dare questo strumento a tutti i territori di regione Lombardia. La delega alla cultura è una delega molto trasversale e quindi questo avviso va in questa direzione. Sono più ambiti, quattro ambiti, quattro linee, dai siti UNESCO alla promozione culturale, biblioteche, archivi, musei, spettacoli. Insomma, abbiamo cercato di coprire tutta la parte della promozione culturale. Oggi c'è un grande interesse, non soltanto qui a Varese, ma ci sono collegati tutti gli utiliari di regione Lombardia.